Ciao ragazzi, se avete cercato questo video è perché non riuscite a passare i robottoni incazzati che ci sono alla fine del terzo livello. Ora vi farò vedere come passarli in 5 minuti anche con i settaggi della difficoltà quasi al massimo. Prima di tutto lasciate i vecchi a ascoltare la mazzurca nell'autoradio e dirigetevi verso la guardiola qua con il vostro mitra in mano. Probabilmente siete già morti prima perché avete cercato mille volte di scappare, di imboscarvi, di colpire i robottoni. Allora, prima di tutto lasciate giù la mitalliatrice scarica, prendiamo la mitalliatrice quella già carica, prendiamo la mitalliatrice e la portiamo giù dalle scale qua dietro, nascosta dietro questo muro. Poi torniamo su dalle scale, prendiamo la mitalliatrice scarica, mettetela sulla sua sede in modo che si ricarichi, aspettate che si ricarichi, pronta. Ok, prendiamo la nostra mitalliatrice con calma e con pazienza e mettiamo qua anche lei pronta all'uso. Opla. Perfetto. Adesso torniamo verso la macchina e prepariamoci al grande momento. Uno, due e tre. Andiamo, eccolo qua. Escono i robottoni. Bene, via, via, grande fuga, grande fuga. Correte verso le vostre mitalliatrici, nascoste qua dietro. Ok. Prendiamo la prima mitalliatrice, siete pronti? Calma e sangue freddo. Senza agitarsi perché è facilissimo. Via. Eccolo qua. Sparate al robottone come se non ci fossero domani. Sparate, non fermatevi mai. Sparate, sparate ancora. Fate attenzione. Ecco, perfetto. Il primo è andato. Avete visto? Facilissimo. Facilissimo. L'unico inconveniente è che adesso la metalliatrice scarica, ma abbiamo l'altra. Via. Lasciamo quella scarica. Via, il robottone ci sta già seguendo dall'altra parte della casupola. Mettiamo la bomba in mano per sicurezza. Prendiamo la metalliatrice. E avanti il prossimo. Piano piano, gli andiamo dietro. Zitti, zitti. Eccolo lì. Bam! Spariamolo al figlio della merda. Con tutti i colpi che avete. E via, via, grande fuga. Perché questo spara, eh. Bomba. E via. Attenzione alle sue di bombe che fanno piuttosto male. Adesso con calma. Lui lì che ci aspetta il valco. Trang! Un'altra bella bomba in mezzo ai coglioni. Eccolo lì. Comincia ad essere un po' stordito. Bomba. Pam! E' una bella mitragliata. Ecco fatto, signori. Ecco fatto. Il robot è servito. Cinque minuti di paura. Pezzi da tutte le parti. Vi ricordo che potete prendere i pezzi delle lamiere e costruire la vostra armatura. Rinforzare la vostra armatura. Raccoglieteli più che potete. Perché vi faranno sempre comodo. Ecco fatto. Ancora qualche pezzo. Non la metà di attrice. Questo no. Ci chiamano. E arrivo. Adesso entriamo nel bagagliaio che ci porterà, nella macchina che ci porterà al treno per Berlino. Arrivederci ragazzi. Vi aspetto al prossimo video con Zultan. Ciao a tutti. Ciao a tutti.